Sì, ma noi siamo controllati anche grazie di muvola, guardi poi tutto bianco, dentro, se mi dovesse... Guarda dentro, vedo voi, guarda che guarda poi il muvola... Giusta quantità per impegnarti... Non sento quello di poter... Quando è il nostro giuro? Sì... Quello sì... Siamo contenti, io non voglio diventare... Andando, muovendo... Vuoi che non venga? È vero, vuoi che non venga sul cambio, si mette tutto il giorno sui giorni e alla fine che si è abbastrato per un'altra... Cazzo io il di là dovresti fare tutto il giorno sui giorni... Se il giorno fanno un minore poste... Ah, quello? Beh, il di là è un po' di... Sì, però loro andiamo a lasciare un quarto d'ora di pausa... Gli andiamo a un mino fa un quarto d'ora di pausa... No, no... No, no... No, c'è gente per la giornata... Però quando tu fai il venti di ora... Quanti tu hai detto il giorno? No, si fa il quarto d'ora... Fuora... Un cambio di quattro d'ora... Hai fatto pausa... Se hai girato la pizza... Ehi... Ma lì però tutti i giorni... Bene, bene, ero visto tardi... D'inverno, mattino, fino a... Mezzogiorno, su e giù... Sei... Sei bello, su e giù... No... Eh... Sessanta... C'è due? Sì... Sessanta sei... Eh no, eh... Ah, pensavo vuole di più... Ah no... Ma qui... Guarda che è quello che fa un corse... Eh... Ma il corse è quello che fa un po' passati... Ci fanno una mano, eh... Eh? Ci fanno due mila, giocati così... Due mila e cinque... Beh, oggi no... Oggi non ho fatto... Sei tutto gelato... Sì... Ah, ce l'ho proprio passato... Ah... Forse di più, ma non so... Perché... Guarda, l'ho avuto, l'ho avuto... Di più, ma non so... È una buona... Hmmmm... È... È... A centri un po' Ma questa sera... O altro da lìa... No, però... È un po' Ma camera è da... In questo video... È un po' È un po' È un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti